Una doppia mazzata in arrivo per migliaia di cosentini che dovranno pagare sia all'Asp che all'Agenzia delle Entrate somme relative ai ticket per i codici bianchi e per le prestazioni ricevute negli ambulatori. Sentiamo. Controlli sugli accessi in codice bianco al pronto soccorso di Cosenza. Chi ha usufruito della prestazione medica e non è in grado di dimostrare tramite ricevuta di aver corrisposto il ticket sarà costretto a pagare il dovuto prevista la possibilità di rateizzazione. L'azienda sanitaria provinciale della città dei Bruzzi deve recuperare le somme prima che vadano in prescrizione. Le posizioni vagliate una per una sui mancati introiti all'Asp sono in corso indagini da parte della Guardia di Finanza e non è la sola brutta notizia per i cittadini di Cosenza e provincia. Sulle autocertificazioni infatti per l'esenzione del ticket negli ambulatori relative alle viste specialistiche o alle analisi c'è l'attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate che considererebbe improprio l'utilizzo di alcune autocertificazioni. Attraverso indagini interne la stessa Agenzia delle Entrate sta procedendo con le verifiche e successivamente con le riscossioni di somme ingenti. Anche in questo caso ci sarebbe la possibilità di rateizzazione. Controlli necessari per evitare abusi sottolineano dagli enti interessati. Il cittadino, pensiamo a chi onestamente ha usufluito delle prestazioni, dovrà dimostrare, girovagando da un ufficio all'altro, di essere nel giusto la burocrazia imperfetta che complica la vita.